Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Qualche settimana fa ho avuto modo di presentarvi un video che parlava di stalking e in particolare della nuova legge denominata Codice Rosso, legge fortemente voluto dalla ministra Buongiorno che in sostanza fa sì che le procure debbano intervenire entro e non oltre tre giorni della denuncia di uno stalking. Ora in quella circostanza io vi ho promesso che ogni qualvolta fossimo stati di fronte a un femminicidio io vi ne avrei parlato. E purtroppo ieri è accaduto, è accaduto che in provincia di Bergamo è stata uccisa una donna madre di due figli ad opera dell'ex marito violento, brutale e bastarda. La cosa che mi ha fatto così incazzare, questa la parla giusta, è il ricordo che avevo di quell'episodio del quale vi avevo parlato in quel famoso video che se non ricordate o non avete avuto modo di ascoltare vi prego vivamente andate a riprendervelo perché è importante. Allora in questo video praticamente io avevo preso spunto da un altro femminicidio avvenuto in provincia di Milano dove aveva perso la vita una donna di 59 anni ad opera dell'ex marito, solito marito violento e brutale. Ora quello che mi aveva molto indignato era la posizione di due procuratori che erano partiti da quello che era stato un invito della polizia giudiziaria a questa donna cioè quella di allontanarsi da casa e il procuratore aggiunto Letizia Marinella aveva dichiarato testualmente non ottemperare a questo consiglio le è stato purtroppo fatale e aveva aggiunto il procuratore Francesco Greco il fine del codice rosso e anche creare alcune salvaguardie immediate come quella di andare via da casa e io avevo aggiunto in quel video come se fosse la cosa più semplice del mondo come se per tutti fosse facile andare via dal proprio tetto coniugale ma la cosa più incredibile sapete qual è udite bene quello che sto per dirvi la donna che è stata uccisa ieri in provincia di Bergamo ha ottemperato a questo invito è andata via da casa è andata a vivere dalla sorella e lui il bastardo l'ha aspettata sotto casa e l'ha massacrata con svariate coltellate ora io mi rivolgo ai procuratori Marinella e Greco adesso come la mettiamo come la mettiamo qual è la nuova scusa che trovate per non essere riusciti a difendere le nostre donne qual è la scusa capite questo è un paese dove purtroppo dove purtroppo non si riesce ad intervenire anche in situazioni talmente palesi talmente chiare quest'uomo come tanti altri uomini andavano fermati e c'era la possibilità di fermarlo ma purtroppo malgrado lei se ne fosse andata via da casa è stata massacrata a meno che i procuratori Marinella e Greco non pensino che uno debba andare oltre oceano magari cosa facile per chiunque o io francamente non so dove possa essere la soluzione ma ripeto siete voi è lo stato che deve proteggere le nostre donne deve trovare la strada per far sì che questi episodi non possono più accadere e noi su questo dobbiamo batterci dobbiamo parlarne un invito soprattutto alle donne ma ovviamente non solo parlatene con le vostre colleghe con le vostre amiche se volete divulgate anche questo mio video perché ripeto è inaccettabile che una donna pur avendo ottemperato agli inviti della polizia giudiziaria pur essendosene andata da casa abbia trovato pochi giorni dopo la morte per opera del suo aguzzino allora si sa qual è il potenziale aguzzino si sa dove la donna è andata a vivere ma dico ma come è possibile che non ci sia un minimo di protezione affinché non accada l'irreparabile questo è la cosa inaccettabile inaccettabile così come è inaccettabile è inaccettabile che oggi sieda ancora al suo posto il ministro fioramonti ministro della pubblica istruzione ancora più dopo quello che è successo in queste ultime ore dove due servitori dello stato intenti a compiere il proprio dovere hanno trovato la morte e ancora più risultano violente risultano bestiali le dichiarazioni di questo di questo essere non so che tipo di essere è questo qua che ha dichiarato e non me ne frega niente se l'ha fatto qualche anno fa quando era più giovane sparare a uno e poco bisogna sparare a più poliziotti questo andrebbe cacciato e guardate bene cosa sta facendo la sinistra i media e i politici della sinistra non se ne parla nessun giornale ne parla stamattina tutto sotto traccia la loro speranza che tutto vada nel dimenticatoio e questo essere umano questo questa roba qua non so neanche come cavolo definirla possa continuare a fare il ministro della pubblica istruzione ma questo non deve avvenire perché noi tutti i giorni io almeno lo farò ne parleremo e dovete farlo anche a voi dovete farlo a scuola nelle vostre scuole in tutte le circostanze questo deve essere cacciato non può fare il ministro della pubblica istruzione e guardate ancor più uno che invece di parlare di problemi seri parla di merendine e parla di tasse dei voli intercontinentali con i problemi che abbiamo nelle scuole e notizia di stamane in una scuola del cosentino i ragazzi non hanno potuto andare a scuola perché la scuola è inagibile e stride con una notizia di stamane che la columbus university stanno parlando di intelligenze artificiali noi non solo non abbiamo i computer non abbiamo neanche i banchi e le sedie per i nostri ragazzi inoltre i nostri ragazzi se fate caso io l'ho potuto verificare non parlo neppure un inglese fluente anzi sono a un livello bassissimo soprattutto confrontati con loro colleghi tedeschi finlandesi svedesi questi sono i problemi che un ministro della pubblica istruzione deve affrontare ma certamente non tu fioramonti non tu fioramonti il prossimo ministro non tu fioramonti e chiudo con un altro argomento che quello della finanziaria l'obiettivo tra l'altro se voi leggetti i giornali e guardate le televisioni sembra che a governare ci sia ancora Matteo Salvini questi parlano solo di Matteo Salvini del pappete parlo di quota 100 ad esempio stamane Andrea Romano parlava di quota 100 dicendo che bisogna dire la verità agli italiani bisogna dare i numeri giusti solamente 100.000 hanno aderito a quota 100 io vado sapevo già il dato ma vado ulteriormente a consultare il dato IMS che invece dice che al 26 settembre 172.000 hanno aderito a quota 100 voi capite che da 100.000 172.000 c'è una bella differenza è vero che non sono i 400.000 che si era ipotizzato che aveva ipotizzato il precedente governo c'è da dire però due cose uno che gli italiani sono liberi di decidere non è che è un obbligo andare in pensione con quota 100 e secondo che questa sperimentazione a termine nel 2021 quindi c'è tempo capite così si è inventato praticamente di sana pianta un numero dicendo il falso e dicendo che agli italiani bisogna raccontare la verità questa è la sinistra per quanto riguarda l'evasione fiscale no è intervenuto Cottarelli Cottarelli che insomma è uno dei più seri almeno da quel punto di vista e i più economisti più più preparati che ha chiaramente sottolineato quello che io vi ho detto i giorni scorsi che pensare di recuperare 7,2 miliardi è assolutamente improbabile perché la realtà è quella c'è un sacco di nero è impossibile recuperare 7 miliardi di evasione però cosa succede che averlo messo nella finanziaria per l'Europa va bene una cosa che assolutamente è fuffa perché non c'è niente non c'è alcuna minima certezza di recuperarli però questo per l'Europa va bene siccome c'è al governo un governo che a loro piace questo è accettabile capite questi sono i problemi che noi dobbiamo affrontare tutti i giorni nel nostro paese la stampa che tace certi discorsi governo che può parlare di cose assolutamente non realistiche di stato che non riesce a difendere le nostre donne siamo a questo punto ma noi noi dobbiamo denunciare tutti i giorni questi fatti e io lo farò parlerò sempre in ogni circostanza dei femminicidi dello stalking vi parlerò sempre di fioramonti vi parlerò sempre della finanziaria tutti i giorni dobbiamo sottolinearlo con questo vi lascio e vi auguro buon pomeriggio